Giacomo, Bettini, storia e filosofia, passione, paura, desiderio, l'azione dei ragazzi della rosa bianca, la cosa più sconvolgente, le leggi di Norimberga, ad essere più liberi perché ci rendiamo conto della portata delle nostre azioni e delle possibilità infinite che abbiamo di fronte. Passione, precisione, competenza e umiltà. Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo. Una grigliata mista. Una penna perché si ricordi sempre che è destinato a lasciare un segno nel mondo. Non può mancare un buon paio di scarpe perché ne dovrà fare di strada e non può mancare anche un libro, l'Apologia di Socrate, per rendersi conto che vale la pena spendere la vita per i propri ideali.